il programma è offerto da problemi di acne ide è la soluzione per te ide la pelle siamo noi www.ide.it Buonasera gentili amici telespettatori ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Bizzona è sempre di più il campionato di Crotone e Cagliari queste due squadre proseguono la loro marcia in testa alla classifica con i calabresi al primo posto i sardi al secondo e creano un piccolo buco dietro tutte le altre squadre provano a rincorrere ma in questo momento tolto forse il pescara non c'è nessun'altra formazione in grado di tenere il passo di queste due società intanto vado subito a presentare l'ospite di giornata di serata il cavaliere Sergio Brighenti ben ritrovato cavaliere io sono molto felice di essere qui perché questo è il campionato degli italiani esatto ed è soprattutto un campionato emozionante equilibrato anche se lo dobbiamo dire in testa alla classifica con la vittoria ottenuta a Novara da parte del Crotone e con il successo del Cagliari nell'ultimo turno possiamo dirlo che queste due squadre hanno creato un piccolo buco non dimenticherei il pescara perché veramente ha avuto una vittoria strepitosa Perugia 4-0 un risultato pesante incredibile anzi chiedo già subito alla regia se è possibile di mandare in onda la grafica relativa all'ultimo turno con i risultati così li possiamo leggere insieme ai nostri amici da casa Salernitana-Brescia 3-0 si riprende la squadra campana Ascoli-Lanciano 1-0 Bari-Vicenza 2-1 Cagliari-Terrana 1-0 Cesena-Entella-Virtus-Entella 2-0 Modena-Avelino 1-1 Novara-Crotone 0-1 Provercelli-Spezia 0-1 Trapani-Latina 1-2 Perugia-Pescara 0-4 Livorno-Como 1-1 Su questa partita poi torneremo su questa gara del Livorno pareggiata con il Combo perché ci sono state numerose polemiche e anche parole di fuoco da parte del Presidente Spinelli che andremo a sentire dopo Per me ha ragione Spinelli ma non solo per questa partita ma ha avuto molte partite sempre con episodi contrari Eh sì 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 questo lo dobbiamo sottolineare nell'ultima settimana il Livorno sicuramente ha avuto degli episodi arbitrali contro Comunque ci teniamo tutto il materiale Non voluti naturalmente noi pensiamo che hanno un errore Non pensiamo male però ci teniamo Sfortunati Sfortunati esatto Ci teniamo tutto il materiale che riguarda il Livorno per diciamo l'ultima parte della nostra trasmissione dedicheremo spazio E speriamo che il Presidente Spinelli rimanga Esatto sì perché lui ha ormai lo anticipiamo lo anticipiamo che il Camelle Brighetti ha dichiarato di voler abbandonare il calcio Restiamo però sulla testa della classifica in questo momento perché il Crotone a questo punto non si può più nascondere O meglio da qualche settimana non si è nascosto però adesso è davvero lanciato verso la Serie A Sì però dobbiamo anche ammettere che sono favorevoli tutti gli episodi che avvengono sul campo quando c'è il Crotone Perché il gol del Crotone io ho visto la partita benissimo a Novara era da annulare Quindi era più giusto 1-0-0 che 1-0 perché anche tra pareti di accorsioni devute più a Novara Però adesso gira tutto bene Questo può essere il segnale definitivo del Crotone in Serie A Cioè che veramente gira tutto È la sua annata ecco diciamo così però sinceramente ci vuole anche fortuna per arrivare in fondo E in questi casi Il Crotone ha la rosa la qualità per andare fino in fondo? Secondo me non l'aveva perché secondo me nei rigironi di ritorno avrebbe dovuto cedere Non dico dal lato tecnico perché tecnicamente sono bravi ma dal lato fisico Se riesce a tenere fino a fine del campionato con questo ritmo veramente bisogna dare un elogio Non solo all'allenatore ma anche ai collaboratori dell'allenatore che tengono le condizioni fisiche dei giocatori del Crotone Benissimo però anche l'anno scorso era così eh Non bisogna dimenticare l'allenatore dell'anno scorso perché i giocatori praticamente hanno cambiato poco Sì è vero Mr. Drago l'anno scorso fece un grande campionato con il Crotone Quest'anno tanto merito di Juric che ha continuato però sulla base costruita da Drago Cosa dobbiamo dire di questo Crotone? Che adesso superata la metà del girone del campionato scusate Ha sicuramente un calendario in discesa No il calendario è uguale all'andata Il problema è se la tenuta fisica è come quella dell'andata Perché io avevo messo dei dubbi su questo Posso sbagliare? Allora merito ai preparatori atletici e all'allenatore Il mercato deve intervenire il Crotone? No io non credo perché intanto credo che lavori sempre sui prestiti A meno che c'è dei talent scout che trovano dei ragazzi, dei settori giovanini delle squadre come Roma, Lazio che indovinano completamente il talento Diciamo che a livello di Rosa naturalmente il Cagliari è messo meglio È una squadra completa Perché c'è anche giocatori di esperienza E poi è un gran giocatore Il migliore della Serie B Ce l'ha il Cagliari Di Gennaro A parte il gol che fa qua e là Sua vecchia conoscenza È stato anche a Modena Avrebbe meritato una carriera ben superiore Da quella che sta facendo Sì purtroppo qualche infortunio di troppo Un po' Tecnicamente Una intelligenza tattica e tecnica eccezionale Il piede sinistro è specialmente eccezionale Anche il destro Perciò è un giocatore per me doveva giocare in Serie A Cavaliere Brighetti Siamo pronti per andare ad ascoltare le parole di Mr. Baroni Il tecnico del Novara E di Juric, allenatore del Crotone Posso solo dire ragazzi Che dobbiamo Dobbiamo mettere da parte questo risultato Ma pensare alla prestazione Io credo che se i ragazzi Si ripetono Con gare a questo livello Ne perdiamo poche Purtroppo nel calcio a volte c'è anche queste situazioni qua Dispiace perché oggi Devo dire anche all'andata Però oggi è stato clamoroso Non c'era questa differenza tra noi e loro Hanno sfruttato in maniera incredibile Una situazione dove Mi dicono che ci potrebbe essere anche un fuorigioco Anzi un doppio fuorigioco Però al di là di questo che non voglio Non voglio assolutamente Essere polemico su questa decisione Però per quello che hanno fatto i ragazzi Per la vemenza Per la determinazione Non concedere veramente quasi niente Insomma Di più non potevano fare Devo dire sinceramente Che noi soffriamo Novara Per la sua fisicità In modo di giocare Subito verticalizzazioni Dove non si costruisce molto Ma si va dritto per dritto Hanno giocatori di grande forza fisica E come è andata Abbiamo sofferto Penso che abbiamo fatto 20 minuti Alla grande il primo tempo Dove abbiamo controllato Abbiamo mostrato la palla Come volevo Molto bene Invece al secondo tempo Abbiamo sofferto Veramente sofferto Penso per merito loro Anche per una fisicità Completamente diversa Loro rispetto a noi Devo dire che cosa C'è stato fantastico Erano due o tre situazioni Il primo tempo Già che non poteva fare fallo Perché là Vedevo che è una battaglia Volevo mettere un altro giocatore Che si sente anche libero A fare fallo Ragione è stata questa Poi Yao Yao penso che Soffre fisicità di attaccanti La preferivo Quando è diventato proprio Palla lunga Il lottare Preferivo Cremonesi Che comunque È un giocatore Con fisicità diversa Siamo tornati in studio Con il Cavaliere Brighenti Dobbiamo adesso Coggettarci Anche sulla Pescara Una squadra che Come ha sottolineato Il Cavaliere Sta andando alla grande 4 a 0 Nell'ultimo turno In casa del Perugia Qualcosa che è successo Veramente non ho mai pensato Che il Pescara Potesse vincere Non dico con quello scarto Ma anche 1 a 0 Perché in Perugia Vedevo una squadra Che era in ripresa Ha dei giocatori importanti Non so Quale è successo Non vorrei Non vorrei Che ci fosse una Rivoluzione Contro l'allenatore Perché di solito Ci può pensare Che queste cose Io ne ho viste Di tutti i colori Perché perdere 4 a 0 In casa Con un'avversaria Che praticamente È quasi un derby Perché Pescara E Perugia Sono squadre vicine Peraltro Perugia Che aveva perso Anche il recupero Con il Vicenza Perciò è proprio Un periodo Sfortunato Io mi auguro Che non ci siano Delle lì Perché Perugia Ancora in tempo Di inserirsi Nel play E play off Play off È vero Cavaliere Beghetti Intanto andiamo a vedere Giustamente la classifica Altrimenti Che gli amici da casa Non capiscono bene Quali sono le dinamiche Del Campionato di serie B Crotone a quota 51 Cagliari 49 Pescara 43 Bari 39 Via via Tutte le altre squadre Con il mare Brescia 38 Lì Aggrappate Alla zona play off Attenzione poi All'inserimento di Avellino e Cesena Perché sono Lì Pronte a inserirsi Sono ancora in tempo Inserirsi Però Le tre favorite Per andare In questo momento Come giocano Sono appunto Crotone Cagliari Pescara Parte destra Della classifica Vediamo L'Ascoli Che con il successo Tenuto con il Lanciano Si è tirato leggermente Fuori dalle sabbie mobili Della graduatoria È volato a quota 26 Resta in fondo Invece il Lanciano Con questa sconfitta Attenzione alla Salernitana Che ha dato segnali di ripresa Battendo il Brescia Scusate per 3 a 0 È un momento pericoloso Perché Per esempio C'è Scusami se mi intervento Di parlarti del mio Modena Che perde la partita Al 91 Ma è già la seconda domenica di fine Al secondo sabato È un brutto sentore Questo qua Speriamo che non succeda più Nelle prossime vere Perché È appunto A due punti Dalla Play out Sì E questo Non è accettabile Crespo rischia Crespo Tra parentesi Non solo Adesso Rischia come squadra Rischia anche come Purtroppo È indagato Per attività Amministrative Vendite Acquisti Eccetera Speriamo Speriamo che non sia quello Che Lo facciamo Della notizia Della mattinata La ricordiamo Della mattinata Di martedì Che La guardia di Abbiamo sentito parlare Di presidenti Di quelli L'unico giocatore Coinvolto In questa cosa Crespo Ma cosa c'entra Qua esce Era nell'assio Con Lottito Forse collegato Appunto A Lottito Certo Ricordiamo la notizia Della mattinata Di martedì La guardia di finanza Sta O meglio Ha perquisito Diverse società Sede Delle società Di serie A E tra l'altro Ci sono anche Giocatori Appunto In questo caso Un ex giocatore Con un allenatore Come Ernan Crespo Che In questo momento Non sta vivendo Un momento positivo Con il suo Modena Arriva anche Questa notizia Mi spiacerebbe Proprio Che Può affossare A livello psicologico Il Modena e Crespo No Poi Se ha carattere Deve reagire Perché Di altri Inquisiti Sono presidenti Di società Perché Galliani Lottito Galliani Ministratore delegato Lottito Presidente della Lazio E anche Patron della Salernitana Insieme anche A De Laurentiis A proposito Di Salernitana Cavaliere Brighenti Ci concentriamo Un minuto Su questa squadra E poi tra poco Andremo a sentire Anche Lottito Sono contento Parliamo della Salernitana Perché ha Un allenatore Che è stato Un mio giocatore Torrente Nelle nazionali Under 21 Che è un ragazzo Molto serio E molto capace Ne ha parlato Nel passato Ero convinto Che la Salernitana Si riprendesse E penso Può essere La vittoria Della svolta Per la Salernitana Può darsi Anche l'ambiente Può riprendere Magari fiducia Può riprendere Qualcosa È stata Una vittoria Molto meritata E anche giocata bene Cioè Fisicamente I giocatori Sono preparatissimi Naturalmente Hanno alcune tecniche La qualità La rosa Della Salernitana Merita il pre-auto? No Io direi Che come Corrono Io parlo Dal lato fisico Li ho visti In modo eccezionale Tecnicamente Non li conosco Molto bene Però commettono Degli errori Della volta banali Anche in fase difensiva Bisogna vedere Se adesso Torrente Come penso Abbia rimesso Le cose a posto A proposito Di Lotito Abbiamo pronto Il contributo Con il patron Della società Campana Dopo Il roboante Successo Ottenuto Contro il Brescia Sono andato sotto la curva Per dire Non per Avere Plausi Perché Tanto qui Ricordate La riconoscenza È il sentimento Dell'attesa E vi dico Una strada cosa La riconoscenza Dice Se è più grande Della misericordia di vita Che pure infinita Quindi Penso Che situazione Quindi Questa cosa Io sono andato Per dire Guardate Solo non Per ricevere Plausi Per dare Una rassicurazione Dicendo Sono ritornato In prima persona Ad occuparmi Di questo problema Quindi State tranquilli Che adesso Quello che sto dicendo adesso Lavoro in corso Significa che le cose Le seguo in prima persona Perché Significa che Se prima Avevo seguito Le cose a distanza Oggi le seguo in prima persona Prima persona Direttamente Tratto io Per migliorare La squadra Per fare la cosa Perché Ritengo Io sono Sono uno dei due soci Mi devo assumere La responsabilità Di questo Insieme al mio cognato Delle scelte che si fanno E che Tu puoi agire Come dire Per delega O puoi agire Direttamente Io in questo momento Agisco direttamente Senza delegittimare Nessuno Ma Come dire Suggerendo Consigliando Stimolando L'intelligenza Delle persone A riflettere Su alcuni temi Abbiamo sentito Allora le dichiarazioni Di Claudio Lottito Adesso Ci concentriamo Sul Livorno Sempre Parte bassa Della classifica Cavaliere Brighenti 1-1 In casa con il Como Un gol Dobbiamo dirlo Quello della formazione Lombarda Chiaramente Irregolare Perché La rete È avvenuta In fuori gioco Ma Quello che ha Preoccupato La tifoseria Amaranto È sicuramente La continuità Di errori Di altri errori Ecco Quello sicuramente Perché Ancora una volta Livorno ha dimostrato Di avere Dei problemi Dei limiti Però Quello che ha preoccupato Soprattutto La tifoseria È stato lo sfogo Duro Durissimo Da parte del presidente Spinelli Che da anni È a capo Di questa società Di questo club L'ha portato in Serie A Addirittura L'ha portato a disputare La Coppa UEFA E adesso Rischia La retrocessione E lui ha detto Io abbandono il calcio Io abbandono il Livorno È migliore di Spinelli Che io conosco Da 30 anni Quando ero a Genova Lei lo conosce bene? Lui era dirigente Lui era dirigente del Genova Mentre io Giocavo nella Sampdoria Però ci incontravamo Sempre al ristorante Insieme Un derby Un derby Era l'amicizia Era E il problema Che mi dispiace È che lui È un tipo di presidente Come l'Ottito Il problema È che l'Ottito È molto periodo Fortunato Pensa che fortuna Questa settimana Ha vinto Con la Serenitana E poi con l'Alasio Che due vittorie E invece Il nostro povero Spinelli Vorremmo aiutare Anche psicologicamente Non riesce a venire fuori Perché sta lottando Peggio del Modena Cosa dobbiamo dire a Spinelli Di rimanere nel mondo del calcio Deve rimanere Perché il Livorno È una sua creatura Ma deve dargli uno spirito Non diciamo così Da arrivare al punto Di insultare giocatori qua e là Come certe volte Può succedere con lui Perché è un istintivo Deve cercare di aiutarli Di sollecitarli Anzi di consolarli Esatto Lei sta dando alcuni consigli A presidente del Livorno Sì perché ho esperienze Di questo genere Abortolo Mutti Allenatore che è di esperienza E che ha fatto sempre molto bene Bravo allenatore Cosa invece si sente di consigliare? Cioè come può uscire il Livorno Da questa crisi? Perché ormai è crisi E il Livorno non può neanche più Pensare ai playoff Deve iniziare a pensare Veramente a salvarsi Deve solo Sicuramente cercare di Dimostrare superiorità Agli errori arbitrari Cioè di non fare Affermazioni che potrebbero Aggravare la posizione del Livorno Perché come sappiamo tutti Gli arbitri quando si sentono offesi Non dico che si rivendicano Sul campo Però certamente aiutino Non fa piacere Il problema è questo È un periodo nero Spero che passi per il Livorno Per la salvezza Io del Livorno penso di salvezza Però abbiamo Abbiamo due squadre Livorno e Modena Che sono due città Che hanno fatto del passato Cose eccezionali Il Modena addirittura Ha fatto tante partite In Serie A È arrivato anche In classifica a terzo posto Il Livorno ha fatto Come hai detto prima Coppa UEFA Coppa UEFA Meritano di giocare Sennò diventa una categoria Di squadre Noi abbiamo A Modena Due squadre Sassuolo Carpi Che sono due Diciamo così Erano due travasi Di tifosi di Modena E sono spariti E Modena Deve essere Di nuovo Aiutato Protagonista E protagonista Il Livorno lo stesso Perché Il Livorno Meritato il parco scelto Gioca anche Un squadro Dei giocatori importanti Ecco Sono D'accordo Su quello che ha detto Cavaliere Brighenti Perché il calcio Ha bisogno Comunque Oltre di piccole realtà Come Carpi Sassuolo Frugginone Virtus Sentella E altre Però bisogna anche Delle grandi piazze Tipo Modena Livorno Che hanno fatto Veramente la storia Del calcio Di questo Da un po' di ragione Allo Tito Eh sì Quasi collegato Con Claudio Lottito Con le sue parole L'anno scorso Che hanno scatenato numerose polemiche Ti rendi conto Di essere circondato Da due paesi Come Carpi E Sassuolo Che vengono a sfottere A sfottere a Modena Sta facendo una pernacchia Al Modena Proprio Ci spernacchiano Eh sì Che prima Noi andavamo in quei campi lì A fare allenamento Per oggi Per oggi Comunque Siamo pronti Con le parole Lo sfogo Duro Durissimo Incredibile Di Spinelli Presidente Del Livorno Andiamo a sentirlo Guardate Scusate Adesso vi dico Quello che succede Io È l'ultima partita Che io vedrò Perché non Ne posso più Di queste albetraggi Basta Questa è la mia Ultima partita Io e mio figlio Usciamo Da Livorno Diamo le dimissioni Ci sarà nominato Un sostituto Non lo so chi sarà Nomineremo un commissario Io ho finito Perché sono scandalose Le cose che sono successe Sia a Pescara Sia a Stasera L'avete visto tutti Questo non è Noi non possiamo tollerare Io non ce l'ho Con i giocatori E non ce l'ho Con i tifosi Perché i tifosi Sono stati esemplari Però io Non posso più Tolerare queste cose Se vogliono Che io vada via Avranno la soddisfazione Che io non ci sarò più Nel calcio Basta Questa è la mia Ultima partita Scusatemi Ma questo È definitivo Si è sfogato Camille Brighetti Ha anticipato Anche me E ha Proprio Commentato Inzitivamente Le parole di Spinelli Si è sfogato L'abbiamo sentito È come quando giocava a carte Che gli andavano male Però non è la prima volta Che sentiamo lo sfogo di Spinelli L'anno scorso E quest'anno veramente Ne ha Dette di tutti i colori Allora Cavali Brighetti Praticamente siamo quasi Alla fine della nostra trasmissione Parliamo anche Dell'Ascoli Con il Lanciano Due squadre che Stanno frequentando I piani Bassi Della classifica Perché Faticano Il Lanciano addirittura Ho visto un gol Clamoroso Sbagliato In casa Dell'Ascoli Dove praticamente Il pallone era dentro E invece L'hanno tirato fuori Il Lanciano È veramente a terra Oltretutto è arrivata La notizia anche Del deferimento Che rischia di Portare punti di penalizzazione E affossare definitivamente Le speranze di salvezza Della squadra abruzzese Il Lanciano È sempre stata Negli ultimi tempi Una squadra Che ha fatto un bel gioco E ho visto Dei risultati eccezionali Per una cittadina Come Lanciano Come del resto L'Entella Di Chiavari Che L'Entella È il nome Di un fiumiciatolo Dove io andavo Fare il bambino Io Non voglio scherzare Con le cittadine piccole Però Cavale Brighetti Prima o poi Parla lo Tito Bisogna stare Però bisogna stare attenti Che prima o poi Si ribelleranno E poi dopo Sono dolori per noi Ci vengono a picchiare No Io Dico solo Che fanno dei miracoli Io Gli faccio i complimenti Una società Però dobbiamo anche dire Che è ricca l'Entella Nel senso Non è proprio Una società Povera Ecco Sarà anche ricca Però fa i miracoli Perché con un pubblico così piccolo Perché è importante I sostenitori Sì Anche se forse Nel calcio attuale Sento che ti Ti sostengono Sì però Nel calcio attuale Abbiamo visto Abbiamo visto Nel calcio Di oggi L'Albino Leffe Con praticamente Pochi tifosi Addirittura Ha trasferato una promozione Serie A Lo stesso Carpi Non ha questo numero Incredibile di tifosi L'Entella Ormai il calcio Possiamo dire Che ha cambiato E anche una squadra Come il Lanciano Ci sta Il problema Sai qual è il problema Te lo dico Perché è la mia esperienza È più facile Per i dirigenti Condurre una squadra Di cittadine piccole Come mai Non ci sono pressioni Esatto Bravo Hai detto una cosa giustissima Bravo Complimenti Hanno meno pressioni Hanno meno pressioni E quindi Fanno I dirigenti Con tranquillità E riescono forse A ottenere il massimo Dei giocatori Perché i giocatori Non sono mai Diciamo così Insultati Sia per la strada Un giudizio invece Sull'Ascoli L'Ascoli che forse L'Ascoli 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 È una città È una tradizione Anche l'Avellino Però ha vinto Nell'ultimo turno Con il Lanciano Si è tirato fuori Dalle sabbie Dalle zone calde Ecco Ma l'Ascoli È stata una squadra Anche in Serie A Ha avuto Un periodo Veramente eccezionale Dove aveva Diciamo così Presidenti Di prestigio Che vivevano a Milano Tra parenti Erano autori Editori E non posso dire no Per non fare pubblicità Il problema È il problema Dell'Ascoli Si salverà l'Ascoli È una città Dove Qualsiasi squadra Trova difficoltà A giocare Sia Ascoli Avellino A Salerno Tutti La sorpresa Per me È incredibile È Crotone Chiavari E appunto È Bencio Forse Brescia No 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 Brescia È purtroppo Una città Dove ha avuto Una tradizione Tammente grande Che non capisco Come faccia Questi alti e bassi È Brescia Modena E Livorno Sono tre città Che c'è la B Perde queste tre città Perde tanto Perde una buona fetta Di tradizioni Di storia Possiamo andare a sentire Allora Mister Mangia E mister D'Aversa Rispettivamente Allenatore Dell'Ascoli E del Lanciano Al termine di questa partita Sì sì Abbiamo fatto Abbiamo avuto dei problemi Nel primo tempo Un po' anche perché Probabilmente Nella formazione iniziale Ci mancavano Delle caratteristiche Ma Non è colpa di nessuno Almeno Non è colpa di sicuro No Nostra Le caratteristiche Erano quelle L'unico giocatore Che poteva un po' cambiare Le queste caratteristiche In questo momento Al netto Che benedici Sarà un giocatore Che ci tornerà utile Però è arrivato veramente Da troppo poco tempo E buttarlo nella mischia Oggi Forse gli avrei fatto del male Il giocatore Che può cambiare Farcele queste cose E sicuramente Gigi Giorgi Poi dopo Se non l'ho fatto giocare Perché non è che Me le invento le cose Ma perché non era Nelle condizioni di giocare Sì Il dispiacere maggiore Secondo me Per quello che si è fatto Il primo tempo Dove Credo che ci sia stata Una squadra Che ha espresso Una buona mola di gioco Che dando Diverse situazioni da gol Anche Clamorose È chiaro che lì dove Non siamo bravi A sfruttare queste occasioni Poi Il calcio Purtroppo Riserva delle sorprese È un destino crudele Che è lì dove magari Meritavi qualcosa in più Anche del pareggio A casa Torni a casa E la possiamo vedere Avellino Cagliari L'anticipo Brescia Brescia-Livorno Cesenascoli Cono Vicenza Crotone-Perugia Latina-Provercelli Pescarabari Torni a casa Brescia-Bodena Brescia-Lanciano-Trapani Invece Invece una partita Davvero interessante Serie B Il campionato degli italiani Bene Abbiamo ricordato che in chiusura Grazie mille per averci seguito Ci ritroviamo settimana prossima con Bizzona Il programma è stato offerto da Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te IDE La pelle siamo noi www.ide.it